Siamo arrivati alla Maison de la Seresse, come ci eravamo messi in testa di fare, siamo Valsusini e le montagne decidiamo noi come viverle, non lasciamo che 30 persone arrivino sulle nostre montagne, tra l'altro mettendosi al Colle della Scala dove non passa nessun migrante da parecchio tempo e dicendo che stanno bloccando le frontiere. Ripeto, erano una trentina probabilmente questi esaltati, noi oggi invece siamo riusciti a far passare 50 persone, siamo stati sulla strada, siamo arrivati da Clavier fino a Briansong, man mano che siamo entrati nel paese anche la gente francese, la gente di Briansong si è unita al corteo e è una bellissima giornata, siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ogni volta che queste persone decideranno di fare qualche pagliacciata mediatica come quella che hanno fatto in questi giorni sappiano che la risposta sarà questa, perché queste montagne non sono per i fascisti, queste montagne sono montagne partigiane, sono sempre state e lo rimarranno sempre.